Musica Si è trovato in mezzo alle fiamme, innescate forse da una candela ed è morto probabilmente prima che gli crollasse addosso il tetto. Non c'è stato scampo per Giorgio Pia, 73 anni, di Terralba. Quando sono arrivati i vigili del fuoco le fiamme stavano ancora bruciando la vecchia abitazione di Via Tola, una stradina del centro storico di Terralba.